buonasera a tutti e tutte siamo con angelo miotto curatore del libro genova per chi non c'era che sarà protagonista del dibattito che a breve inizieremo a sherwood il primo dei tre dibattiti dedicati al ventennale di genova angelo ciao innanzitutto ciao a te buongiorno a tutti e benvenuto qua al festival di sherwood partiamo dal titolo del libro genova per chi non c'era perché l'esigenza di raccontare genova chi non l'ha vissuta ci sono due fattori uno è quello della memoria sicuramente quindi è bene scrivere sempre di non solo di genova ma anche di genova e l'altro fattore però è capire a chi indirizziamo questa memoria nel senso che il punto e credo focale che ha guidato nella mia idea e grazie anche ad altra economia che ha accettato questo punto di vista con massimo canfora è stato quello di pensare a un'eredità quindi a un legato che noi lasciamo non perché noi moriamo scompariamo assolutamente no ci siamo siamo vivi e vegeti e abbiamo voglia di andare avanti a raccontare queste cose però le nuove generazioni effettivamente hanno probabilmente un problema legato al contesto il contesto è qualche cosa che ci serve per avere un'opinione per informarci per avere poi un giudizio che da esprimere ed eventualmente anche per partecipare poi attivamente alle lotte le rivendicazioni a qualche cosa che non c'è più forse come un sentimento molto condiviso nelle nuove generazioni che quello del conflitto e quindi abbiamo pensato facciamo un libro che sia un libro di servizio c'è dentro pensiero ma c'è dentro anche ricostruzione secca quasi storica tra virgolette e poi abbiamo fatto un libro corale quindi chiedendo a molti dei personaggi che hanno sfilato durante quelle manifestazioni della proposta più che della protesta di ricordarci i temi fondamentali che erano sul tavolo allora a Genova e che rimangono sul tavolo ancora oggi e questo è una un tema interessante quello delle proposte quello delle delle tematiche ma veniamo ancora al libro il libro è un un libro corale ci sono tanti saggi tanti articoli illustraci quali sono le traiettorie principali perché comunque sono articoli di autori diversi di protagonisti diversi che affrontano Genova da una prospettiva diversa come giusto che sia aiutaci un po a ricostruire ci sono dei temi che sono generazionali per cui abbiamo scelto ti faccio degli esempi cristianelia che è il condirettore dei q code mag di cui sono direttore che affronta il suo ricordo su quel treno da bari verso Genova il giorno dopo l'omicidio di carlo giuliani come uno spartiacque per lui assolutamente per lui non soltanto per lui di un impegno politico da da rinnovare ci sono ricordi anche di come affrontammo dal punto di vista giornalistico i giorni di Genova quindi con Danilo De Biasio per esempio che organizzò tutta la la diretta ai tempi per popolare network e radio popolare ma ci sono poi degli interventi che sono interventi che vanno invece più sui temi e quindi abbiamo Marco Bersani quindi abbiamo Antonio Tricarico ci parlano quindi della nuova globalizzazione cercano di attualizzare o la fino alla nuova finanziarizzazione dell'economia e della società cercano di attualizzare quei temi di vent'anni fa con qualche cosa che stiamo vivendo oggi ovviamente c'è un tema che è quello che noi conosciamo bene che è sulle pagine dei giornali quello del clima sicuramente dell'emergenza climatica e lì forse è interessante anche capire che abbiamo chiamato i Fridays for Future però abbiamo cercato di capire anche se questa tematica ambientale è una tematica di un nuovo nemico tra virgolette perché siamo di fronte anche a una propaganda è un attacco che si camuffa molto spesso ormai in quello che noi leggiamo le grandi multinazionali usano ovviamente i temi migliori che abbiamo portato noi sul tavolo di Genova per dire quanto sono buone oggi a fare determinati tipo di politiche in realtà poi quando vai a studiare che cosa fanno invece è estrattivismo puro ancora nel nome del carbone o del petrolio e soprattutto questo è vero in una fase in cui si sta ridefinendo questa estrazione anche e soprattutto grazie al recovery fund al PNRR in Italia veniamo adesso agli articoli perché tu oltre ad essere curatore hai scritto degli articoli e in particolare apri poi ne hai scritto anche un altro ma dopo parleremo anche anche di quest'altro che riguarda la comunicazione e tu apri il capitolo terzo con un articolo che parla appunto dell'eredità di Genova e fai riferimento a una serie di movimenti sociali a partire dagli indignados da tutte quelle che sono state le lotte del ciclo contro l'austerità fino ad arrivare ai giorni nostri parli un po' anche del concetto di nazione indiana cioè dell'esigenza anche di rimettere insieme queste comunità perché comunque le comunità resistenti non sono mai finite con Genova non termina il movimento, non termina la movimentazione sociale parlaci un po' di questo articolo, qual era l'obiettivo e quali sono anche i presupposti che ti hanno spinto a scriverne con Donatella della Porta che è una professoressa che insegna a Normale di Pisa abbiamo ripercorso i vent'anni di conflitto lei li studia per la sua ricerca che non finisce mai con i suoi saggi, con i suoi discorsi, con i suoi studenti internazionali e per me era interessante per dimostrare un semplice teorema, molto semplice e cioè che il movimento prosegue subito dopo aver preso tante bastonate essere stato messo in discussione e ce le ricordiamo con le discussioni già nel 2002 a Firenze, va avanti nel 2003 con la manifestazione contro la guerra va avanti ancora in maniera carsica, si dice quindi spunta, si rimmerge in diverse occasioni e poi ho citato alcuni degli elementi internazionali più che hanno dato l'idea di rivendicazioni verticali che si formassero un'altra volta in piattaforma quindi sicuramente gli indignati col 15M che poi danno vita man mano a un partito politico che è Podemos che sicuramente era molto più a sinistra quando è nato di quello che è oggi quando sta al governo sicuramente Occupy Wall Street, sicuramente si arriva addirittura fino a Black Lives Matter se vuoi e poi tutte quelle che sono invece rivendicazioni che sembrano più territoriali ma affondano ancora una volta le radici sicuramente nel seme di Genova che sono quelle che per comodità sono state etichettate con il no e queste cose io mi ricordo per esempio il dicennale in Ottav quando sfilarano a Genova erano accolti da applausi perché raccoglievano in qualche maniera secondo proprio il pubblico, la gente, i manifestanti un certo tipo di eredità, un'eredità battagliera un'eredità di quelli che sapevano anche opporsi in maniera coerente da una parte e decisa dall'altra che è il grande tema del conflitto io credo anche quella è una parte importante, più locale sicuramente come percezione dico però sicuramente un qualche cosa che abbiamo visto a più latitudini e tra l'altro uno degli slogan di Genova che poi è stato ereditato in parte da alcuni movimenti era pensare globale, agire locale io credo che proprio sulla questione climatica questo slogan è diventato concreto perché tante lotte territoriali soprattutto negli ultimi anni devo dire e soprattutto grazie ai movimenti climatici sono uscite un po' da una dimensione esplicitamente o comunque una dimensione ancorata al territorio abbracciando proprio una visione d'insieme che era quella legata alla crisi ecologica in atto ci sono temi come la partecipazione da una parte la territorialità, nel senso di essere legati alla terra che è molto importante la comunità, il diritto di essere informati sto pensando a molti tratti di unione che hanno queste lotte di rivendicazione dal punto di vista climatico che spesso si rivolgono a un elemento anche di inquinamento che arriva sempre in nome del profitto sempre in nome di una poca trasparenza sempre in nome di una corruttela anche molto diffusa di cui è difficile, come dicevamo prima, portare non solo le prove perché poi molto spesso le prove non vengono neanche prese in considerazione ma la portata direi io cioè quello che accade nelle varie lotte che sono lotte locali per quanto riguarda l'effetto appunto dell'ecologia, ambientalismo e alla fine quindi cambiamento climatico sono vissute a volte come qualche cosa che finisce in un fatalismo per cui una gran parte dell'opinione pubblica allarga le braccia e dice cosa ci possiamo fare noi e perdono invece quella caratteristica dove è esattamente lì che possiamo fare qualche cosa ed esattamente a livello territoriale che possiamo fare qualche cosa ed è quello forse il grande tratto di unione che dobbiamo imparare dalla lezione che stiamo vivendo Un altro tema che affronti nel saggio è quello della crisi dei partiti che è una crisi probabilmente iniziata già anni prima probabilmente in Italia si inserisce anche all'interno di una crisi politico-giudiziaria che è quella di Tangentopoli ma sicuramente l'opzione partitica dopo Genova direi per fortuna dal nostro punto di vista non raccoglie più sia dal punto di vista simbolico ma soprattutto dal punto di vista materiale non è più capace di esprimere alternative reali o comunque esprimere una visione politica chiara ecco questo avviene in Italia ma avviene un po' ovunque con magari alcuni passaggi tipo quello di Podemos che però rappresentano a mio avviso più delle meteore e tutta questa eredità, questo portato secondo te i movimenti sono in grado di raccoglierlo? Allora diciamo che c'è un tema molto attuale che è quello del sovranismo che stiamo vivendo che sicuramente è andato a soppiantare usando degli strumenti che in parte non erano proprio del sovranismo ma di un vuoto che è stato lasciato dalla politica partitica che era un vuoto esattamente che avrebbero potuto colmare ascoltando di più le istanze del movimento quelle istanze del movimento non vengono recepite non soltanto non vengono recepite ma vengono rifiutate in maniera assolutamente plateale quasi direi io per l'esa maestà quasi come se fossero soltanto i partiti politici a poter dettare l'agenda politica questo non è, non è assolutamente abbiamo una crisi sicuramente di sistema laddove la democrazia rappresentativa è qualche cosa che non funziona più la democrazia partecipativa è qualcosa che non si è assolutamente affermata e fa fatica soprattutto a livello diciamo così nazionale, internazionale poi magari io sono affezionato per esempio al municipalismo catalano invece dove vediamo che nel territorio più piccolo è possibile avere della sperimentazione invece molto molto interessante quindi in realtà abbiamo di fronte un tema estremamente che mi lascia sempre, io dico sempre, molto indignato cioè se abbiamo una bella Costituzione io penso che la Costituzione sia una buona Costituzione italiana al di là che le si voglia bene o meno il fatto di voler raccontare ai ragazzi che spesso è inapplicata dopo così tanti anni significa riconoscere una sconfitta molto dura perché viene inapplicata esattamente sui temi valoriali la guerra, l'eguaglianza, la diseguaglianza, la povertà, il reddito potremmo citare cioè tutte quelle parti dove i nostri padri costituenti si sono messi a studiare per garantirci diciamo così un dopoguerra diverso, un futuro diverso poi non sono state applicate, rimangono una buona letteratura è qualcosa a cui ispirarci ma poi il dibattito politico va da altre parti va da altre parti e usa altri tipi di linguaggi adesso abbiamo detto che vent'anni fa rispetto a oggi abbiamo avuto un salto tecnologico incredibile ma dobbiamo anche ricordarci che non ci fa bene questo salto tecnologico se il risultato dal punto di vista dell'azione della politica partitica quella che vediamo spesso sui social o spesso nel talk show televisivo che ne ha augurato sicuramente le reti private di Silvio Berlusconi e poi andando avanti ancora altri gruppi di potere quindi in realtà l'eredità che lascia il movimento è un'eredità difficile da gestire perché non si deve più solo confrontare andare a opporsi a quelli che sono dei nemici tra virgolette ma anche senza virgolette che sono riconoscibili e riconosciuti ma abbiamo anche la difficoltà di trovare degli strumenti comunicativi che sappiano raccogliere da una parte l'attenzione per poter poi spiegare il fatto politico in sé e poi abbiamo l'ulteriore e ultimo problema di riuscire a trasformare le idee le proposte che riusciamo a portare in campo in qualche cosa che siano effettivamente delle azioni di tipo politico livello governativo quindi in realtà abbiamo molte più barriere e ostacoli io credo che sia sfidante perché sono ottimista di natura però riconosco che c'è una confusione tale per chi è più giovane rispetto anche semplicemente ad orientarsi di quanto potevo averne io uomo del novecento che vedevo il mondo diviso in blocchi dove era abbastanza facile riuscire a capire perlomeno a grandi linee che cosa ci fosse la posta in gioco oggi è molto più difficile il movimento secondo me è quell'opportunità di trovare finalmente rappresentanza io non ho più rappresentanza da tantissimi anni quando vado a votare e trovare una nuova rappresentanza e cercare di portare avanti cercare di far diventare maggioritarie quelle idee una ultima domanda tra le altre cose parli tu tra l'altro in un altro articolo di comunicazione è un tema assolutamente importante lo affrontiamo magari in maniera più transciante adesso come cambia la comunicazione politica quella indipendente in particolare tu a Genova hai rinviato di Radio Popolare se non sbaglio e dopo Genova cambia tanto perché anche lo dico senza timore anche le radio o l'informazione indipendente fa un ottimo lavoro tutte le radio indipendenti fecero un ottimo lavoro tutti i media indipendenti fecero un ottimo lavoro alcune vennero addirittura assaltate come ricordiamo il 21 di luglio del 2001 però sempre con meno mezzi nel senso che il fatto di non avere anche una sponda a livello partitico nel futuro dopo il 2001 che potesse essere in qualche maniera un elemento strategico anzi tattico direi meglio con cui giocare per avere determinate idee di campagne e portare avanti non soltanto in solitaria rispetto a portare avanti delle inchieste dell'informazione che sicuramente fa bene ma poi devi arrivare anche a interessare il numero maggiore di persone che riesci questa cosa non è stata più tanto possibile il mainstream lo conosciamo il mainstream è sempre stato il mainstream è andato avanti a fare il mainstream questo non è in questione c'era un discostarsi già allora fra gli articoli degli inviati che spesso conoscevamo che raccontavano quello che vedevano molto spesso il titolista che raccontava un'altra storia e l'editorialista che a sua volta invece andava a bastonare ovviamente il movimento in base a un criterio di linea editoriale del tutto ideologica quindi quello non è in questione secondo me il mainstream perché il mainstream fa il suo mestiere è più in questione il fatto di capire come riusciamo noi da quella che era la novità di Indymedia che poi si è trasformata diventa tu il media ok da lì poi siamo andati avanti abbiamo avuto i social network però alla fine nonostante tutta questa architettura che ci può anche aiutare ma che può anche essere pericolosa perché in realtà attraverso la diffusione di foto e filmati è vero che denunci ma puoi anche essere delatore in qualche maniera inconsapevole è vero che tu devi mantenere però il pallino su quello che è il messaggio come lo racconti e soprattutto avere un'idea un'idea editoriale forte di portare avanti questi messaggi perché la tentazione del moderatismo per andare a prendere più pubblico per dirla molto diretta è stata forte è stata forte perché gli ascoltatori erano dentro una spirale di moderatismo che si respirava tranquillamente in tutta Italia quando si parlava di sinistra radicale mi veniva da ridere radicale non vuol dire niente e la sinistra o è sinistra non è centro-centro-sinistra che assomigliava di più a un centro-destra quindi in realtà già le definizioni le parole che si sono usate nell'informazione sono definizioni che hanno lasciato come adesso parlare di no global ancora una volta termine abusato quando possiamo invece tranquillamente preferire alter mondialismo tutto quello che vuoi basta che non sia questa definizione che hanno appiccicato in maniera posticcia e sicuramente in maniera strumentale al movimento già da lì dobbiamo ricominciare dal fatto che Carlo Giuliani non è morto ma è stato ucciso e via dicendo insomma queste sono cose che vediamo ancora oggi vent'anni dopo grazie Angelo ci vediamo più o meno tra un'oretta per il dibattito dove Angelo sarà con noi grazie mille grazie a tutti